Perché in teoria dovrei iniziare... Allora, quando finisco Assassin's Creed se riesco a finire tutti i trofei in tempo, perché volevo finirlo Immagino che sia una frase che c'è dopo, perché non capisco niente di quello che è scritto Però sono contenta di parlare con fan di questa saga perché comunque mi incuriosisce molto sapere anche cose che non dice il gioco o curiosità di altro tipo Non c'è luogo dove puoi nasconderti, Spartano Va bene, lo sappiamo Ah, ok E non ho mai studiato il greco, quindi... Purtroppo non posso saperlo È già tanto che riesco a capire un po' Giapponese, spagnolo e vabbè L'inglese lo capisco abbastanza Non lo so parlare, ma lo capisco È una verità ineluttabile a cui non potrai mai sfuggire Perché la pronuncia faccio sempre un po' di fatica Tu non puoi cambiare Tu sarai per sempre Un mostro Lo so Ma non sono il tuo mostro, no Ah, ecco cosa dice, curiosità Perché a leggerlo così ho capito solo Olimpos Che immagino che sia l'Olimpo Bene, vediamo quello là Oh Adesso è Kratos Questi Ah, aspetta, aspetta C'è roba da prendere Eh, infatti, ne ho sconfitta una Prima mi diceva di trovare le altre Per scoprire un mistero Oh, qua c'è qualcosa di segreto Ah, ah Vedi che è esplorare Sì, sì Comunque in questa casa Per quanto riguarda gli animali Non sono quasi mai mancati Cioè comunque bisogna rendersi conto Del potere detenuto dai gatti God of War Si è superato solo da Stray Sì, eh Ma sai cos'è? È che I gatti Come altri tipi di animali Essendo amati da molte persone Loro dicono Fa niente Se magari il gioco non è un granché C'è il gatto Allora lo devo prendere Lo devo provare Eh Io non posso dire niente Perché anch'io quando l'ho visto Uh, c'è Red Lo voglio assolutamente Perciò Solo di parte Sì Sì Il salto è una cosa bella E tutte le volte lo tolgono per nulla Oh, c'erano alcuni giochi Parecchi anni fa Adesso non mi ricordo quale fosse Che dovevi imparare a saltare Ad abbassarti Ti rendi conto? Eh, vedi Sì, beh Diciamo che Ho sentito già tipo Una decina di persone Che mi hanno detto Prima cosa Uh, c'è il tuo gatto In un videogioco Prima Seconda cosa Ah, dai Lo voglio provare Stray Quindi Fidati che non sei L'unico Aia E anch'io però Che gli do le spalle C'è ragione Quello che fa Ciao, bello Allora sei Ti dico cosa sei Perché Non posso Perfetto Perfetto L'ho sprecato Eh, lo so Però E' per fare prima Ok Perfetto Tutti è Ah, questo Allora Dai Attaccami Sì, devi colpirlo Quando fa quella mossa lì L'ho capito adesso Spezzaguardia L1 L1 Ok Grazie Quindi praticamente Sarebbe così Perfetto Beh, però Devo dire che Dall'altra volta Qualche miglioramento C'è Anche se Non c'ho più giocato Ok Qui Eh, sapessi Scorre diversamente Nei regni Spezza in quelli Legati al mondo Degli spiriti La luce di Alfheim Muorriva il Dottor Strange Il tempo di Alfheim Scorre più lentamente Rispetto al lago Delle anime Così come a El Rispetto a Medgard Eh, quello è vero Ho notato che Era abbastanza Ah Vedo che impari In fretta Forte Ci ho messo Due o tre Tentativi Che è Ok Ok C'è stato un momento Che Ho detto Uh Sto riuscendo Senza farmi colpire Sì Poi mi ha ucciso Però C'era un altro discorso Chi è Ah, ok Però Che colpo Allora Lo devo schivare Ok Questo si riprende subito Comunque Devo dire Ok Ok Ne ho uno dietro Due dietro al sedere Ok Comunque Se dovessi scegliere L'arma preferita È questa Senza dubbio È più gestibile Secondo me Voi che dite Qual è la vostra L'arma preferita Solo chi muore Dignitosamente In battaglia Può andarci Coloro che muoiono Con disonore Finiscono a El Eh beh Cos'è che c'è Chi muore di vecchiaia Indegno Oh Eccola la codina Non è mai troppo tardi Per andare a combattere Eh Quello è vero Per essere fatta bene È fatta bene Però Se dobbiamo parlare Di praticità Senza dubbio Questa Sto rompendo le cose Giusto per Vedere se c'è Qualcosina da prendere Chi è? Vedi che c'era qualcosa Eh I pugni Eh beh Tu poi Te vai direttamente A sodo Della serie Hai degli amici Tranquille Sì Red Basta Fare il gatto Rispettoso Su Che è quasi Finito Ah Qualcosa c'è Che Giustamente Stiamo esplorando Come vedere là Questo è ghiacciato Però Se faccio così No vero Figurati Ok Devo fare qualcosa Prima di andare lì Perfetto Vediamo Prima ci arrivo da sola Poi nel caso Mi suggerite Vediamo Qua secondo me Bisogna fare Il così Uh Cosa c'è lì Aspetta Aspetta Gli occhi di Odino L'avevo già trovato Un paio di volte E' una Valkyrie a pugni E' stato un bel combattimento Allora Non è da tutti Credo Immagino Non so perché Io ho battuto Ne ho battuta solo una Allora Perché c'è scritto Che sono difficilissime Poi Bisogna vedere Un attimo Uh Cosa c'è lì Eh Aspetta Lì ci arriva No Eh Quello è vero Ma ogni cosa Una volta che impari Non è complicata Ci vuole pazienza Bisogna imparare Anche il disegno Il disegno Se ti metti lì A far pratica Poi impari Io non credo Alle persone che mi dicono Ah io sono negato Ci hai provato almeno Se non ci provi Nelle cose Non puoi dire Che sei negato Che non ce la fai Ci vuole pazienza E Perseveranza Se no Non arriverai mai Aldunque Sono tornata indietro Vero Sì Mannaggia a me Mannaggia Eh Ma guarda Fidati che sono Calmissima Con questo gioco Per adesso Con altri giochi Mi sono arrabbiata Molto di più Chi mi segue Da parecchio Se ha visto Come Mi sono arrabbiata Con Cuphead Guarda Non commento Mi ricordo Che l'ultimo pezzo Di Cuphead Ci ho messo Un paio di mesi Forse A farlo Ero talmente arrabbiata Che ho detto Non ci gioco più Peccato che è uscito DLC Quindi fra un po' Dovrò iniziare A giocarci Quindi Sì No io l'ho finito Avevo fatto la serie E l'ho finito tutto Dovevo finirlo A tutti i costi Ho detto Non esiste Che io Devo bloccare Una serie Per un boss Infatti Se decido Di fare un gioco E finirlo Per quanto riguarda Il canale È un conto Ma se dovessi Giocarci da sola E non mi piace Non mi diverte Allora È un altro conto ancora Allora Io dovrei andare Lassopra E questo l'abbiamo capito Ora devo farvi La strada Perché Qua non sale Giustamente O c'è qualcosa Che non ho visto È possibile Non è qua Qua Si può andare Ah Guarda cosa c'è lì Aspetta eh Quando ripassa lì Lo colpiamo Dai Quasi Annaggia a lui Oh ma è un casino Beccarlo questo Poi ci sono dei pazzi Che uccidono ogni boss A livello 1 Di qualità massima Ehm Ah ok Grazie Ludo Ehm No ma infatti Ehm Purtroppo Ci sono Quelli che Ci giocano 1500 volte Ehm Insomma Lo imparano a memoria Da una parte Ehm Com'è che Cioè Devo usare L'attacco a distanza Quello che usi Per grabbare la gente Ehm A ricordar Oh Così Stavo dicendo A ricordarmi Come si fa Ok Grazie Ludo Stavo dicendo Ehm Sì Anche quelli Che ne so Che fanno Ho capito Sì ma ci sono anche quelli Che fanno Che ne so Dark Souls Con La roba lì Di Guitar Hero Piuttosto che di Come si chiama Band Hero Quelli Vabbè Sono altri casi Diciamo Un po' particolari Esatto Non volevo dirla io Con la parola Però Quindi Io per esempio Ho giocato I primi due Dark Souls Adesso Dovrei finire Il terzo Visto che hanno Rimesso i server Su Online Sul terzo Ma Io Fino a qualche tempo fa Non volevo neanche fare Ho detto Incazzarmi In un gioco Cioè Io mi devo divertire Non mi devo arrabbiare Poi Alla fine Gli ho dato una possibilità Qualche arrabbiatura L'ho avuta Ma L'abbiamo finiti Quindi Vuol dire che qualcosina Si può fare Eh credo proprio di sì Ma Ti assicuro che io Ho molto tempo libero Purtroppo E non mi metto a fare Quelle cose Come Fa un po' di casino Ne sei capace no? Va bene Facciamo un po' di casino Allora Fammi vedere però prima Tutto Il luogo Perché essere disoccupati Significa avere molto Tempo libero Però Io Occupo il mio tempo In altri modi Studiando Praticamente Visto che l'anno prossimo Voglio fare L'esempio di giapponese Si spera che Eh Ma in realtà Negli anni Qualcuno l'ho rotto Ma non di rabbia Proprio perché Si sono rotti Dopo averli usati Tantissimo tempo Tipo La levetta di Del controller Di PS2 Ogni tanto Va da sola Tranquillamente Fammi vedere Che devo fare Qua Non devo fare niente No Allora Torniamo indietro Che è successo Sigillati Che non funzionavano Troppo capita Era un Final Fantasy Mi pare che era successo Quando me l'hanno detto A me Nessun